Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo horror, che esplora l'angoscia del crescere in un contesto familiare conflittuale. Ma ha anche la possibilità di trovare un riscatto. Questo romanzo è avvincente perché, attraverso una narrazione intensa e visivamente evocativa, riesce a trasmettere il senso di paura e attrazione per l'ignoto che ogni giovane può sentire. Il messaggio finale è potente. Anche dalle situazioni più oscure può emergere una nuova consapevolezza di sé. E talvolta bisogna attraversare il buio per riconoscere la propria luce. La trama del libro Un intruso in famiglia, della scrittrice Monica Kim, pubblicato dalla casa editrice PM, è la seguente. La famiglia di Ji Won è in disarmo. Il padre è andato via. La sorella è in crisi. La madre ha pensato bene di scegliersi un nuovo. Invadente compagno dagli occhi azzurri che si è installato a casa loro. Sono proprio i suoi occhi a tormentare Ji Won. Sogna occhi di ogni tipo come quelli dei pesci, ingredienti di alcune ricette tradizionali coreane. Chi li assaggia è destinato alla fortuna. Ma quando Ji Won decide di assecondare la sua rabbia, diversi eventi si succederanno intorno a lei e le cose prenderanno una piega decisamente terrificante. Un romanzo che vi terrà fino all'ultimo col fiato sospeso. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.